Un medie al massimo, una volta vinto anche l'Accademia del Coro di Silvia, senza sé, senza ma, tutta la tappi razio dei miei militanti passeranno e noi con molta serenità andremo a fare quello che ci riesce meglio, vincere. Nonostante i soloni eccetera, io ritengo che faremo buon risultato e ancora una volta onoreremo il nostro essere militanti della Lega Nord, poi tutto il resto si discuterà in tempo, l'importante è vincere.